EGR, il mostro automobilistico per eccellenza. Vediamo nel dettaglio come è fatta e a cosa serve. Benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format, la meccanica spiegata in modo facile facile. Ho voluto riprendere argomenti che ho già trattato sul canale, utilizzando però un linguaggio il più semplice e chiaro possibile. Troverete video più specifici scorrendo in basso nel feed del canale, magari per approfondire l'argomento, utilizzando però questo come punto di inizio, in modo da capire meglio l'argomento e decidere se approfondirlo o meno. Spero che vi possa piacere e se così fosse fatemelo sapere nei commenti. Partiamo con quello che da molti anni è diventato il mostro automobilistico per eccellenza, la EGR, montata da un paio di decenni sui motori diesel e che da poco ha visto la sua comparsa anche sui motori a benzina. Ma partiamo dal principio. Cos'è? Beh, la EGR, detta in parole molto semplici, è un meccanismo che preleva parte dei gas in combusti espulsi dalla camera di combustione per essere immessi nuovamente nella camera stessa, in modo da abbassare le temperature al suo interno e abbassare quindi la produzione di NOx. Facciamo un piccolo passo indietro così da capire il perché di questa scelta. All'interno della camera di scoppio di combustione di un motore termico, nello specifico di un motore diesel, il combustibile, il gasolio e il comburente, l'aria, vengono miscelati secondo delle proporzioni ben specifiche. Per fare in modo che la miscela si incendi, nei motori diesel appunto, si sfruttano le altissime pressioni di esercizio. Molto semplicemente la miscela viene immessa nella camera di combustione, le valvole di aspirazione e di scarico si chiudono creando una camera stagna e il pistone nella sua salita comprime questa miscela. Più sale e più comprime, più comprime e più si alza la pressione, più si alza la pressione e più le temperature aumentano fino a far incendiare la miscela. Questa, una volta incendiata, aumenterà di volume e questo aumento di volume spingerà verso il basso il pistone mettendo in movimento l'albero motore. Questo è quello che avviene all'interno della camera di scoppio, spiegato però facile facile facile. Ora, come potete ben capire, stiamo parlando di pressioni e temperature altissime, più alte di un motore a benzina e con queste temperature nella camera di combustione si formano molti NOx. Più sono alte le temperature, più NOx si producono e di conseguenza vengono immessi nell'ambiente. Cosa hanno pensato allora gli ingegneri per poter diminuire queste temperature? Di per sé una cosa semplice. Riprendiamo una parte di questi gas di scarico e anziché immetterli nell'ambiente, li rimettiamo nella camera di combustione, togliendo spazio alla miscela e di conseguenza abbassando il potere della miscela stessa e quindi le temperature di esercizio e di conseguenza la produzione di NOx. Come farlo? Beh, grazie alla EGR. Vediamo allora come è fatta e come funziona. In modo semplice, semplice anche questo. All'uscita del collettore di scarico troviamo un condotto che ad un certo punto prende due vie, una verso lo scarico e una che ritorna invece verso il correttore di aspirazione. In questa deviazione troviamo una valvola farfalla che devia appunto il flusso separandolo in due parti a seconda delle necessità, aumentandolo o diminuendo la quantità di gas di scarico che ritorneranno in camera di combustione. Nel tragitto troviamo anche uno scambiatore di calore, un piccolo radiatore che serve per abbassare la temperatura di questi gas. Già perché se il nostro intento è quello di abbassare le temperature di esercizio all'interno della camera di combustione non possiamo certo buttarci dentro dei gas surriscaldati. Quindi i gas escono dalla camera di combustione, passano attraverso questo condotto, vengono separati, una parte va nella marmitta e una parte, una volta raffreddata, ritorna nella camera di combustione. A vederla così non sembra tanto male, si perde un po' di potenza certo, ma inquiniamo di meno. Qualcuno potrebbe giustamente dire perché semplicemente non abbassare direttamente la potenza del motore, perché la potenza verrebbe abbassata in modo indiscriminato in questo modo, mentre grazie all'EGR questo calo si avrebbe solo al bisogno. Come vedete la teoria non sembra male, il problema sono le conseguenze occulte di questo sistema, legate soprattutto al fatto che questi gas in combustione, sono carichi di particelle che sfortunatamente tendono a raggrupparsi e a depositarsi sulle pareti dei condotti che attraversano, compresa l'EGR stessa. Questi depositi diventano sempre più grandi, intasando tutto il sistema, impedendo non solo che i gas vengano espulsi correttamente, ma attraversando anche parti mobili ne impediscono il corretto funzionamento. Possibile che chi ha progettato il motore non abbia pensato a questa conseguenza? Beh, certo che ci ha pensato, ma probabilmente nelle loro simulazioni hanno visto correttamente che le temperature e le pressioni di esercizio del motore stesso avrebbero sciolto e permesso l'espulsione corretta di queste particelle. Peccato che nel frattempo i motori diesel siano sbarcati nella vita di tutti i giorni e abbiano riempito le nostre città, montati su auto sempre più piccole e cilindrate via via più basse. E tutti i calcoli che avevano fatto, pensando magari ad un utilizzo delle auto diesel, fatto soprattutto per le lunghe distanze, siano andati a farsi benedire nel momento in cui hanno montato questi motori anche su auto che avrebbero visto lunghi tragitti e tratti autostradali solo nei sogni di chi le ha comprate, relegandoli invece in un utilizzo su brevi distanze per brevi periodi, condizione che non permetterà mai al motore di andare perfettamente in temperatura e di conseguenza neanche agli altri elementi, compresa la EGR, impedendo di fatto che temperature e pressioni arrivano a livelli tali da sciogliere ed espellere questi residui. E il gioco è fatto. Ecco dimostrato come una buona idea nella teoria diventa un disastro nella pratica, ma ormai non si può tornare indietro perché quando funziona funziona davvero permettendo di omologare i motori nelle direttive sempre più stringenti. Se non si utilizza l'auto per la mission per cui è stata progettata, beh cavoli di chi ha scelto questa motorizzazione per utilizzarla in città. Peccato però che non ce lo abbiano detto, non l'abbiano detto a nessuno, anzi ci hanno consigliato di acquistare queste auto perché consumano poco, sono efficienti e non inquinano, come avrebbero potuto dire il contrario. Soluzioni, mantenere il motore sempre efficiente, il gasolio sempre pulito, con additivi e manutenzioni italiane intendo, fatti per tempo e ogni tanto un bel giro in autostrada per permettere al motore di scaldarsi, di creare le giuste pressioni aiutandolo a espellere questi residui. Se non l'avete mai fatto e la situazione è compromessa potete optare per un lavaggio con l'ossidrogeno, se non funziona dovete farvi smontare il tutto per un lavaggio a terra e se questo non bastasse, beh non vi resta che sostituirla. Mi dispiace, non ho magici metodi per risolvere il problema qualora fossi in stato avanzato. Ne posso consigliarvi di eliminare il tutto, va contro la legge. Come sempre prevenire è meglio che curare, io vi ho avvisato. Bene, penso di non dover aggiungere altro, nel canale trovate altri video che parlano dell'IGR in modo magari un po' più specifico, ma come detto nella intro questo è un format per portarvi nel mondo della meccanica con un linguaggio il più semplice possibile e se questo vi piace fatemelo sapere nei commenti così da permettermi di capire se andare avanti con questo progetto. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao ciao!